Cambiamo argomento perché per la consigliera regionale del Partito Democratico Deborah Ciliento è ormai indispensabile che anche la provincia di Barletta, Andrea Trani, abbia il suo ufficio scolastico provinciale e chiede al territorio di unirsi a questa sua iniziativa e servizio. Il riconoscimento dell'identità scolastica della provincia di Barletta, Andrea Trani, è un obiettivo importante per questo territorio. La consigliera regionale del Partito Democratico Deborah Ciliento insiste sulla necessità di istituire il prima possibile anche nella sesta provincia pugliese dell'ufficio scolastico regionale ambito BAT. Si tratta dell'organo di amministrazione periferica dipendente dal Ministero della Pubblica Istruzione. Avere a cuore la vita di bambini e ragazzi implica necessariamente la presenza e la cura dei luoghi e delle aree che interessano la loro crescita. Dopo l'istituzione dell'osservatorio regionale per i minori della regione Puglia è necessario, secondo la Ciliento, che le scuole della provincia BAT siano identificate col proprio territorio. La BAT è una provincia ormai non più di giovane costituzione, eppure a oggi sconta ancora l'assenza di diversi uffici strategici per l'identità di un territorio. La costituzione dell'ufficio scolastico agli studi della provincia è un tassello importante quindi, grazie al quale si potranno istituire i relativi uffici e di conseguenza stabilire i nuovi codici meccanografici delle scuole del territorio. Ma per raggiungere questo ambizioso obiettivo è necessario un provvedimento del Ministero della Pubblica Istruzione. In questa fase è importante che le istituzioni del territorio coordinino iniziative che promuovano l'attività del Ministero. Una mobilitazione corale, secondo la consigliera Ciliento, un processo di discussione e partecipazione che sia a un tempo a espressione fattori di coesione nella provincia. Ascoltare il territorio prima di tutto, studenti, dirigenti scolastici, docenti, paternariato sociale.